ed eccoci ragazzi ancora qua finalmente bentornati allora ragazzi come vi avevo promesso ho fatto il videotest sui consumi di questi benedetti televisori perché l'abbiamo fatto ragazzi perché mi avete tante tante persone mi hanno chiesto ma cosa consumano questi oled allora qualche marketing genio me la sono arrangiata ma soprattutto era importante era importante farvi vedere effettivamente un po cosa veniva fuori allora vabbè dovete ovviamente guardarvi tutto il video cercato un po di accorciare perché se no sempre per evitare effetti logorroici con addormentamenti istantanei perché ovviamente sono cose un po pesanti però serve anche perché ragazzi mi hanno scritto tantissime persone in pensione che gli piace la tecnologia e questo mi fa gran piacere perché è bello vedere i giovanissimi ma anche le persone di una certa età ormai in pensione che dicono mi piace la tecnologia ma voglio vedere i consumi perché sai sono pensionato e devo capire cosa 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 vado a pagare in bollette elettriche e ragazzi sono venuti fuori delle belle sorprese ovviamente sto facendo questo video ma i test sono già fatti poi comincerò a fare coppie e incolla ma i dati saranno lì da vedere comunque ragazzi sono sincero non c'è da allarmarsi se poi guardo le caratteristiche tecniche dei produttori allora i test da visual ragazzi lo fate solamente sui televisorico qua quindi su sony ok quindi sono sincero come dicevo l'altra volta ho detto vedrai che se un palle eventualmente se non è non son palle farò un passo indietro bene ragazzi faccio un passo indietro perché diciamo che sono stati sony è stata sincera come consumi quindi ci siamo la f8 era dato per un consumo di 300 watt quindi era di picco massimo ok e il 77 a g9 era dato circa vado a memoria l'avevo visto più o meno su un consumo di picco di 600 watt e ci stiamo dentro con questi picchi ma vi avviso già adesso che a quei picchi lì a questi picchi io non ci sono mai arrivato o comunque magari ci puoi arrivare se spingi a menetta il pannello e vai a fare delle cose che poi ovviamente ragazzi sono da barnin ok quindi poi ragazzi cosa ho fatto allora vabbè adesso ve lo dico già comunque ho preso questo apparecchietto qua su su amazon a 20 euro che è un wattmetro ti segna anche il voltaggio della tensione di casa però ho detto sarà affidabile sono quelle cinesate che non sai mai dovrà finire 20 euro allora l'ho provato appunto con un multimetro digitale che ho con la pinza amperometrica e ho visto che insomma ci siamo il valore c'è indicativamente quello poi ragazzi due watt più tre watt meno insomma ma chi se ne frega il valore c'è ho testato l'ho certificato gli ho messo il timbrino come come prodotto accettabile ok allora ragazzi andiamo adesso a vederci il video e ci vediamo dopo poi nelle considerazioni finali dai ciao ragazzi ciao 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 allora ragazzi ho acquistato su amazon questo wattmetro ok che mi indica anche il voltaggio qui mi dice ad esempio che la tensione di casa in questo momento siamo quasi all'una alle ore 13 quindi vedete la tensione alta siamo a 240 poi normalmente verso sera scendiamo sotto ai 230 perché ovviamente c'è maggior utilizzo di energia elettrica comunque siamo a 241 volte l'ho messo a confronto col multimetro digitale che questo è affidabile come misura ok siamo a 242 come potete vedere anche questo apparecchiettino qua che ho preso su amazon a 20 euro attenzione 242 200 ci balla un volt praticamente praticamente niente ok bene adesso andiamo a verificare un consumo in ampere con pinza amperometrica e con questo dispositivo per vedere se i watt corrispondono questo testo lo faccio ragazzi per un discorso di verifica che questo apparecchiettino qua che ho appena preso sia affidabile ok poi magari ragazzi adesso sto facendo il pelo nell'uovo comunque per capire se sballa di un watt di 10 watt ok adesso andiamo a fare dei test allora c'è un po di rumore ma perché ho acceso un aspirapolvere apposta allora ragazzi vediamo un attimo in ampere come siamo messi con ho acceso l'aspirapolvere ok siamo a baracchino qua di amazon siamo a 5,45 ampere e tende un po a essere un po più vedete una misura un po troppo eccessiva la misura reale e 5,38 27 38 con la pinza amperometrica che ho attaccato non so se avete visto il collegamento come si fa si esce con la 220 si entra qua con lo scatolotto lo scatolotto di amazon mi va a leggere sul display queste misure qua quindi ragazzi a vedere questi numeri io ovviamente ho collegato la mia pinza amperometrica che è collegata al multimetro digitale e possiamo vedere che siamo a 5,27 adesso per capire i watt cosa facciamo eccoci alla fine ragazzi facendo un calcolo vedete ho fatto 5,27 ampere per la 230 volte di casa siamo a 1196 watt e qui è 1191 1187 somma ok calcolando io ho calcolato per 2,30 ma in realtà vedete siamo qualcosa di meno 2,28 vabbè in questo caso adesso è 2,28 però 5 ampere 34 ci siamo dai ragazzi lo scatolotto è affidabile quindi lo promuoviamo che nonostante costi 20 euro puoi tranquillamente andare a eliminare un multimetro che ne costa 300 quindi e se aggiungi se ci aggiungi anche una pinza amperometrica vai a spendere un sacco di soldi quindi vedete un po' anche uno scatolottino da 20 euro vedete in questo caso abbiamo testato che è affidabile quindi ragazzi a questo punto guarda adesso siamo a 1200 watt 1208 ma ci siamo ok 1200 va bene quei 2,3,4 watt di differenza ci stanno ok bene adesso andiamo testare i nostri televisori e vediamo cosa succede eccoci ragazzi allora prova dei consumi questo è il sony a f8 allora io adesso vi faccio vedere il consumo solamente in stand by ok lo vedete in in alto i watt vedi sono 21,22 watt praticamente vedete sono 22 watt quindi pensate già a lasciarlo in stand by cosa va a consumare non è poco è ragazzi 22 watt in stand by adesso andiamo accendere il televisore eccolo qua siamo arrivati a 52 watt comunque 140 vedete che sbalzi che ha in base alla luminosità vedete la luminosità varia adesso sono 137 watt e va con dei picchi vedete in base alla luminosità man mano che i pixel si accendono va sale scende si va dai 127 132 watt e 150 dipende dalla luminosità è chiaro che se c'è un immagine buia lui scende intorno ai 50 60 watt e siamo lì ho già fatto dei test per quel vedete 150 160 bene adesso vediamo un attimo un film magari ecco ragazzi allora niente siamo sempre sugli 80 75 80 watt con le mie luminosità ovviamente da film e ragazzi allora se invece andiamo giù pesanti con immagini molto luminose molto chiare arriviamo anche a picchi di 160 170 watt l'unico consumo fisso che avete è quando è in stand by i suoi 20 watt li consuma tutti qui ragazzi vedete con le regolazioni giuste ok senza sparare a manetta poi sarebbe da vedere con le luminosità i ragazzi ad esempio che usano le luminosità sparata manetta con i videogiochi e lì un 55 pollici stai tranquillamente sui 200 watt siamo sempre 76 80 insomma rotondiamo 80 ma siamo lì allora vi faccio un esempio ho messo sono su disney plus ho messo in pausa il film diventa un po in bianco e nero e aumenta la luminosità guardate come è schizzato il consumo vedete siamo praticamente a 160 watt io oggi vedendo anche scene ho fatto un po di test vari anche prima di riprendere si arriva intorno ai 170 180 watt diciamo che se tu vuoi sfruttare al massimo il pannello è arrivi sicuramente a 200 watt 160 si è stabilizzato adesso 128 watt ragazzi guardate adesso che c'è l'immagine buia 73 vedete che sbalzi di vattaggio vedete il watt metro come va su 100 o e siamo sul sony e ragazzi ma picchi massimi poi arrivare a 160 170 ma poi vedete crollate 70 vedete l'immagine buia adesso siamo 88 dai non sono consumi proibitivi e vedete guardate immagini semi buie per carità io ripeto ragazzi cioè le regolazioni da film sui televisori non ho regolazioni stra accese 98 104 perché c'è un po di sole tutti questi film sempre fatti all'interno che cacchierola non ci fanno mai vedere una bella giornata di sole questi sono i consumi ragazzi del 55 ora andiamo a vedere il 77 allora ragazzi eccoci qua adesso vi faccio vedere un esempio di come viene montata una staffa con il televisore di queste qua che puoi muovere poi il televisore come vuoi vedete io vabbè ho fatto una boiserie qua il muro vedete il muro cosa ho fatto è uguale al pavimento qualche e l'ho ripetuto anche sul muro e mi ha dato la possibilità con questo spessore vedete la staffa di mangiare un po di spessore certo rimpicciolisci la parete però è un esempio ok fra l'altro molto impolverato vabbè niente questa è la staffa che utilizzo io che allora va bene resiste però è molto dura quando devi infilar dentro qualche di voi mi aveva fatto una battuta non mi ricordo più come si chiama infatti ci devi mettere un po di olio si guardate che olio come fai andare a metterci l'olio qua ovviamente era una battuta del fanciullo dai adesso andiamo a vedere i consumi di questo 77 pollici di sony ag 9 vediamo che consumi ha allora ragazzi intanto qua possiamo notare un 77 pollici ag 9 di sony quanto consuma in watt vedete il numero in alto dove c'è scritto 27 virgola 7 virgola 6 8 9 insomma varia un po 28 questo è il consumo in stand by questo è per farvi capire che tante volte stiamo lì a vedere cosa consuma il televisore ma il dramma non è tanto di quanto consuma il televisore perché poi vedremo durante i test come varia il consumo quindi bisogna per forza fare una media però potete notare invece è il vattaggio fisso permanente è 28 watt praticamente 28 watt ragazzi non sono pochi è televisore sempre acceso in stand by 28 watt qui sarebbe meglio mettere un bel interruttore bipolare che vai proprio a staccare la corrente e poi la varia a riattaccare quando hai bisogno oppure la solita ciabatta però con un 77 pollici ragazzi adesso vediamo i consumi perché le ciabatte come avevo già detto in un video non bisogna abusarne troppo e quando una ciabatta parla di caratteristiche tecniche massime di 1500 watt a me hanno sempre insegnato di dimezzare quel valore crei quindi una ciabatta da 1500 watt non farli girare troppa corrente massimo sui 700 to 800 watt basta e dai adesso andiamo a vedere all'accensione ed eccoci qua appena accesa e sono collegato adesso a sky ma ancora sulla schermata home adesso cominciamo a dare luce corrente e vediamo a quanto saliamo comunque già così sono 188 watt eccoci ragazzi allora siamo a 85 watt ma potete vedere le immagini del film praticamente siamo in zone buie ok e siamo a 88 quindi vedete un 77 pollici siamo lì 88 vabbè 90 ragazzi ok 90 watt 93 vedete c'è un po più di luminosità adesso andiamo a vedere altre cose ed eccoci qua ragazzi allora qui sono delle demo guardate in base all'illuminazione come varia non da poco il watt metro sempre tenete conto sempre del del numero in alto è 200 20 guardate gli altri numeri è 250 vedete 246 che come varia quindi a livello tecnico un produttore non può mettervi tutte queste variazioni in base alla luce guardate che picchi vedete qua guarda più bianco è più andiamo su guarda 320 avete visto 300 buon adesso tutto scuro e siamo crollati di 100 watt adesso siamo a 200 330 ragazzi guardate 330 solo con gli effetti speciali qua di sky avete visto come variano i consumi non ci si capisce una mazza ovviamente poi cosa si fa si fa il picco massimo e il produttore fa una via di mezzo ok comunque questi sono i numeri e vedete scene buie cioè 76 watt non è neanche tanto con le scene buie però guardate col bianco già così siamo avete visto 230 vabbè adesso ragazzi non ho chiuso la tapparella va intanto però vedete allora siamo a 100 watt 110 watt 130 siamo sempre sul 77 136 non sono consumi ragazzi preoccupanti comunque ve l'ho detto il danno lo fa lo stand by lo stand by è micidiale vedete poi nella maggior parte delle scene di fine non è che ci sia proprio è chiaro che se io metto bianco 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 si oltrepassano i 300 watt adesso poi magari facciamo un test ok in hdr ragazzi qua vabbè adesso la luminosità non c'è sfiga vuole tutte scene buie ora ragazzi mi sono messo a fare il burn in checker perché così giochiamo con la luminosità vedete appena parto con il burn in checker i consumi siamo sui 300 watt ecco con il violetto qua siamo finiti a 316 watt 315 con questo colore turchese siamo a 313 con il verde siamo a 317 con lo sfondo scuro siamo a 60 watt ecco ragazzi con lo sfondo bianco siamo a 187 watt 188 allora ragazzi adesso ho esagerato ho messo la modalità brillante ok in maniera di dare più corrente al pannello e con lo sfondo verde saliamo a 400 watt quindi vedete quanto è importante anche la regolazione delle luminosità senza eccedere ok siamo a 402 adesso andiamo su altri colori e vediamo sempre con le luminosità al massimo questo è un quasi bianco ok siamo a 321 watt con lo sfondo rosso 462 watt ragazzi qua c'ho le luminosità a manetta eh della serie godiamo godiamo col burn in e con il viola di sfondo un viola eh ragazzi qua c'è flickering però è un viola e siamo a 557 watt sì ma ragazzi ma comunque nella modalità normale queste robe qua non ci arriveremo mai eh ok sto spingendo il pannello per vedere quanto mi può andare a consumare 560 watt pensate che sono a 60 centimetri dal pannello e sento le vampate di caldo frontale che mi arriva questo per dirvi quanta corrente sto dando questi brillanti uccidono il pannello ragazzi qui sto facendo andare un video qualsiasi e con queste luminosità in modalità brillante avete visto quanto si consuma ovviamente ragazzi è sconsigliato al massimo il il brillante il brillante si vede malissimo è tutto saturato a manetta e guardate che consumi guardate che consumi 365 watt quasi qui sono delle immagini alla sera di New York possiamo notare cioè 300 avete visto come varia da 300 di prima a 170 400 watt ragazzi 413 watt 413 watt 420 c'è delle variazioni comunque il vero consumo è quando si va su brillante nella modalità normali ragazzi ad esempio le mie impostazioni qua le ho fatte tutte neanche in cinema perché consumereste ancora di meno le ho fatte in modalità normali prima e quindi in modalità normale allora ragazzi vi faccio vedere una funzione guarda l'ultimo aggiornamento che ha fatto Sony allora io vado sull'impostazione vedete io tengo sempre standard e poi sono andato a modificare i parametri in cinema vedete qualsiasi regolazione vado a farmi viene fuori questa funzione può aumentare il consumo energetico rispetto alla configurazione normale vedete e poi dovete per forza dare l'ok per andare a modificare bene adesso vado su brillante e guardate i consumi ragazzi su brillante stiamo guardando lo stesso documentario brillante 335 vedete 320 quando vado su standard guardate metto standard per te tac da vedete dimezziamo il consumo ragazzi da 300 e passa si passa a 150 watt pensate solamente dallo standard passare a brillante questa funzione qua ragazzi brillante in qualsiasi marca qualsiasi televisore quella modalità lì non deve neanche esistere se la usate nei videogiochi siete dei fogli scatenati però o ognuno il suo rischio e pericolo solo piglia vedete adesso io sono in modalità normale e siamo a 95 137 vedete 91 150 vedete in base alle immagini insomma dai ragazzi è chiaro allora ho provato il 55 e il 77 è inutile fare una prova sul 65 perché intanto ragazzi il 65 è una via di mezzo tra il 77 ragioniamola così comunque abbiamo visto che se si sta tranquilli con le con le regolazioni questi gran consumi non ci sono anzi ok ragazzi ho spento il televisore ed è questo il dramma televisore spento e andiamo a consumare arrotondiamo a 30 watt avete visto è una follia questa cosa qua il televisore a mio avviso dovrebbe assolutamente essere staccata la corrente poi per gli aggiornamenti le cose fregatevene lo faranno quando il televisore si è acceso però sono questi veri consumi che disturbano pensate comunque ragazzi che se pensate a tutta l'Italia con gli stand by ok come minimo una centrale elettrica rimane accesa e comunque da corrente solo per queste apparecchiature qua che sono spente che è una follia assurda questo è il consumismo di oggi è la follia è preziosa ragazzi l'energia elettrica è il mio mondo ci lavoriamo è pure buttiamo via ogni anno un sacco di energia elettrica per tenere il televisore in stand by ma non solo ragazzi ma sapete quante apparecchiature ad esempio questo mio prodotto è questo ok non sono in stand by io me ne sono sbattuto le palle ok e ho staccato stacco proprio la corrente adesso farò una modifica lo farò anche il televisore perché è una follia sta cosa qua va bene ragazzi dai andiamo alle conclusioni finali ed eccoci ragazzi alle considerazioni finali allora abbiamo visto cosa è successo praticamente i consumi ragazzi variano talmente tanto che salgono scendono salgono scendono come fai a capire non serve neanche uno impazzisce come fai abbiamo visto che praticamente sul 77 pollici ad esempio scene buie 6 sui 60 watt poi arriva l'illuminazione arrivi dai 120 150 200 ma 230 240 ma non si va oltre alla fine con delle regolazioni normali con delle regolazioni da film avete visto che comunque la media sul 77 pollici è di 150 watt e sul 55 pollici la media è di 30 watt in meno 40 watt in meno siamo lì ragazzi i numeri sono quelli alla fine non è che sia tanto mentre invece avete visto lo stand by ragazzi lo stand by è quello che uccide lo stand by uccide ma io questa cosa qua purtroppo la so da una vita lo stand by è il veleno di quest'epoca di quest'epoca che non è da ieri da quando è cominciato il discorso degli stand by dei televisori questa roba è qua tu appena spegni i consumi sono quelli e abbiamo visto sul 77 pollici che sono ben 30 watt e ben 20 watt sul 55 chi ha il 65 ragazzi fate la via di mezzo sarà sui 25 watt da spento e fate le vie di mezzo comunque i numeri sono quelli ragazzi che dire ragazzi spero che sia stata cosa gradita questa qua dei consumi me l'avete chiesta in tantissimi e mi sembrava al minimo farlo dai adesso ragazzi ah volevo ringraziare due ragazzi che sono entrati già da un po' che sono dentro nella nostra nel nostro gruppo che sono due ragazzi molto preparati molto bravi entrambe hanno 25 anni uno è Davide di Treviso e l'altro è Lorenzo di Ascoli Piceno li voglio ringraziare perché ogni tanto io magari dico qualche minchiata e loro mi danno una scapola virtuale e mi vanno a dare qualche correzione e poi li ringrazio perché mi danno anche una mano su certi ragazzi che magari chiedono anche a loro ecco quindi ragazzi mi fa solo che piacere che mi date anche una mano voi e quindi poi magari ragazzi con le live magari facciamo anche qualche diretta magari noi tre noi tre che rispondiamo un po' tutti quanti voi chissà dai speriamo di arrivare a numeri importanti ragazzi mi raccomando iscrivetevi dobbiamo arrivare a mille ci siamo quasi mancano poco meno di 60 persone vado a memoria non mi ricordo più comunque ragazzi sto continuando a scrivere a tutti quanti a rispondere a tutti quanti al telefono in continuazione stasera ho altre telefonate insomma ragazzi continuiamo così e andiamo avanti il prossimo video non si sa quando lo vedremo un po' in attesa che poi i televisori prima o poi arriveranno e che cosa vi devo dire vai ciao ragazzi una buona serata ciao 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 ciao